Oh, hey, salve, 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 e lei dovrebbe essere qui per un ritratto, giusto? Ok, sì, infatti mi ricordavo molto bene il suo viso, mi era un viso familiare in effetti. Allora, lei vorrebbe un ritratto quindi, e in che stile lo preferisce? Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale e sul nuovo video. Io sono Interior Winsman e oggi è un appuntamento molto speciale, video super semplice per parlarvi della collezione dei miei peluche e sono molto emozionato per questo video, perché era da un sacco di tempo che non tiravo fuori i miei peluche da lo scoffale più alto del mobile in camera mia, dove di solito li tengo. Come tanti penso, nel corso della mia vita diciamo, ho collezionato vari tipi di peluche durante la mia infanzia, insomma durante il mio, insomma sì, il periodo in cui ero semplicemente un bambino e oggi mi piaceva il fatto di poterveli portare, quindi di condividerli con voi, con qualche magari ricordo, perché no ecco, e quindi mi piaceva questa idea, mi piaceva questa cosa, e niente, e poi appunto potremmo scoprire quali incredibili suoni ci tonneranno questi pelucetti, paesi a usbito. Allora, il primo che voglio farvi vedere è questo qui, non so se lo potete vedere bene, è molto molto carino e molto molto morbido, è uno dei premi peluche in assoluto che abbia, che mi abbiano mai regalato, e quindi è molto bello, molto morbido, tra l'altro aveva questo pulsante in rosso, che serviva per fargli fare il verso proprio del gallo, e questo sarebbe un gallo più che una gallina, non si capisce bene in realtà, però sì ecco ed era appunto questo tasto da premere per fargli fare questo verso, solo che si è rotto poverino, però è ancora un bellissimo pelucetto. Grazie. 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 E' un piccolo. E' un piccolo. Vediamo le lampe che suono farle. Ah, questo mi piace molto. Sembra quasi un tablet. E' un piccolo. Bellissimo secondo me questo suono. Uno scratching molto bello. E' un piccolo. 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 Bellissimo. Bellissimo. E' un piccolo. e' un piccolo. e un piccolo. E' 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 un piccolo. e un piccolo. e' un piccolo. è un piccolo. E' 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 un piccolo.